...generazionale e la rappresentanza politica dei giovani come i movimenti orientali e di giustizia dinamica stanno sviluppando e parte dalla function, da ricorda qui, che appunto stanno sviluppando un linguaggio generazionale dei simboli e dei valori specifici delle nuove generazioni. La mia ricerca si concentra sull'aspetto visuale e la creazione di contenuti di video, quindi sarà un'analisi che coinvolge le piattaforme, video, anche come Instagram e speriamo che TikTok. Mi concentro sul visuale perché appunto è diventato un mezzo principale utilizzato in questi giorni per la costruzione della realtà per tre motivi fondamentali che sono la possibilità di aumentare il engagement e la possibilità di movimenti sociali e trasformare l'esimilità politico del messaggio, quindi dei movimenti in una maniera che è diciamo più simpatica e più facile per il pubblico e per allungere diversi target e altrimenti anche una scorciatoia per interpretare diverse narrativi e sì per dare, per trasmettere più elementi e più significati attraverso tutta una produzione immagine. In caso dei giovani a tutti per me è importante, è importante specialmente oggi perché in ora i giovani in Italia sono stati completamente esclusi dal sistema di rappresentanti e dal sistema politico, se non possono votare, quindi non possono cedere i propri rappresentanti e anche nella quotidianità dei discorsi politici, diciamo, che non sono rappresentati sufficientemente o non come esseri sentienti. La nuova mandata di partecipazione, specializzata di elezioni, però ha presentato assolutamente i contrari. Ci sono giorni che vogliono partecipare, quindi chiedono di essere tenuti in considerazione alle opinioni pubbliche, che vogliono, diciamo, trasformare questo sistema. Queste idee sono state espresse dai movimenti di giustizia climatica che è un movimento che riguarda l'esempio politico di tutti i giorni, che è libero in quanto al suo interno racchiute diversi gruppi, diversi movimenti sociali, di giustizia sociale, di interspezionalità, e esprimono tutti questi interessi attraverso il ruolo che è internazionale, riconoscibile in tutto il mondo. Questi claims sono stati espressi grazie, forse soprattutto, anche all'utilizzo dei social media, che hanno permesso di costruire delle piattaforme alternative, delle creditare, come dice Jennifer. Grazie appunto a questo utilizzo delle piattaforme social come dei livelli di meravigliosi. Tutti noi utilizziamo i social media per esprimere noi stessi la nostra identità, che è diventata una sorta di sovrapposizione di diverse identità. I movimenti ambientali esprimono l'identità genere, come attivisti ambientali, ma guardano anche le giustizie sociali. Un esempio di come i social media hanno facilitato la comunicazione dei movimenti sociali e questo posto di Prega di Superficio Italia, preso dalla campagna del scorso agosto, in occasione del Grover's Pride for Climate, e delle elezioni nazionali. In quel periodo i Prega di Superficio Italia hanno presentato un'agenda climatica nazionale, in cui esprimevano le loro istanze, essere prodotte, essere trattate, secondo loro, nel corso della interna e dell'elettorale nazionale. Sempre abbiamo scusione individuale, vediamo che è bello espresse tutte le istanze del movimento. La rappresentazione di giovani archivisti, c'è la mappa europea e del mondo, nello sfondo, l'utilizzo dell'inglese dell'italiano come linguaggio internazionale. Ci sono le istanze climatiche nella città climatica, ma, se guardiamo bene, alla fine, negli slogan utilizzati, vengono spesso di più delle social issues. Cioè, il quale è il voto senza rappresentanza, il tipo di non-profit, in gradozionale di quelli della showroom locale, la protesta, quindi, l'organizzazione per la support of action, partecipare allo showroom, e la richiesta che vuole divare la presentazione. Il posto viene completato, in qualche modo, da action, in cui vi ho guardato delle informazioni sulla situazione ambientale dell'anno scorso, l'estrematicità, il piacere con l'arco. Questo è stato un importante strumento per i movimenti sociali e postiali, che ha fornito la possibilità di creare dei canali di informazione diversi da quelli tradizionali, superando i confini del giornalismo standard. E poi, per esempio, c'è la posizione del cliente, che non vogliamo per partecipare attivamente. Quindi, il mio interesse si focalizza su come questi attori politici raccontano il mondo attraverso le immagini che condizionano online. E poi facciamo una presentazione dei tre caratteri della nature, tra i practice confusion, la distinction, la mentale, l'ultima generazione, e l'identità che esprimono nell'unituto delle immagini. Tra i practice confusion sono, certamente, quindi la ristrutturata che la città a mente, perché di nuovo a parte di una diversa idea di interpretazione dell'immagine, dal più ovvio dei giovani attivisti, nel testo, ma anche quello che possiamo leggere tra le righe, che è l'attacco alle istituzioni monetarie internazionali, per l'utilizzo dei siti, per gli euro, l'unità del centro di dollaro, e l'utilizzo del rosa che è nel marketing utilizzato per le donne, o anche quello che è nel marketing utilizzato per le donne, c'è l'intersezionalità, però poi anche l'interfazialità della manifestazione. Anche qui non si fa quello che è dentro, al clima se non la sciogra proposta per il clima. Stimili bene, l'ultima generazione invece, quando una comunicazione che è, diciamo che un pre-price per più utilizza molto i social, per esprimere a se stessi, ed è anche una comunicazione più social. Un'ultima generazione, se ci ripeto, partono più dall'offline, e utilizzano i social come mezzo di ricerca, delle attività, delle attività, degli attivisti, ma anche soprattutto per informare, delle questioni ambientali superano, come dicevo prima, i conteni dei canali tradizionali, e stavano, dei canali tradizionali. C'è sempre questa rappresentazione del noi contro loro, i giorni nazionali, perché qui sono stati in Aminio, non siamo più che qui, ci si usa il più giovane, le realtà della protesta. E poi con l'ultima generazione, c'è anche la rappresentazione, sempre dei giovani, intersezionale, interetnico, e giocare con la quotidianità, questo è stato pubblicato recentemente, a seguito della criminalizzazione, e di criminalizzazione dei comandoli. Quindi utilizzare la rappresentazione è meglio mostrare, invece, quanto non ci sia niente di criminalizzazione, di questi artisti, è una rappresentazione che fanno loro. di criminalizzazione dei comandoli. che fanno un utilizzo più positivo, più utilizzano l'esperienza, di Instagram, di TikTok, di Instagram. e quindi, quindi, la prossima generazione, i giovani, abbiamo anche, come dicevo, le organizzazioni online, per superare, la determinazione, di sensi, e soprattutto, per passare l'emergenza, e l'estaggio, l'emergenza. ho cominciato con gli elementi, su credit professionale, e questa, vediamo come è chiara, la poerenza grafica, del loro progetto, della loro comunicazione, quindi sono anche presenti, di come giocano, sui trend, del momento, e da qui in avanti, sto procedendo, un carnalisismo, sui esperti, sui giornali, ti lo scusa, per integrare, un po' il contesto italiano, vedere, qual è la presentazione, dalla parte, quindi questi famosi, le reprendizionali, e poi, quello che sto facendo, è una visual, una group analysis, con un mix di critical discourse analysis, sui dati, che adesso, la conoscenza, da Matteo, e spero di integrarli, con il contesto, in un futuro, e a primissimo, inizialmente, viste, perché sono interessata, come questa comunicazione, questa narrazione, generazionale, nei tuoi, dai stessi attivisti, e vorrei anche, esplorare, la posizione, della comunicazione, forte, la comunicazione, delle tette, applicata, ai movimenti sociali, in questo strano, in cui c'è, in credito, c'è, l'argomento, tra questi due mondi, che tali, con questi movimenti sociali, e in questo momento, grazie. 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 Anche lì, la scuranza, per questo, su un movimenti, della giustizia sociale, è la mia, da entrare, e, più studiati, probabilmente, tra i confused, e l'estinzione per gli, o non, come è, un po', anche con questa, prospettiva, di una, un'innovativa, di visual, ma, tecniche, ancora, che speriamo, un'unità, viene, con ciò, 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 la creiamo, anche questo, proprio questo sistema, in base, è un'unità,